Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di... Porn Overwatch Porn Overwatch Porn Overwatch E' brutto gioco Infatti stavamo rimasti 10 minuti a trovare le pose più migliori per iniziare Allora a meno una che non sia Per capirci qualcosa andate a vedere Hitler cioè scopre che Overwatch ha pagamento una specie di parodia di Hitler che ho fatto io andate a vederlo E non è terribile come gli ci tempero Overwatch? Si Gli ho esagerato perchè doveva far ridere Cioè allora ragazzi quindi Overwatch costa 70 euro E' Team Fortress 2 Preferisco spendere in Asciugamani 70 euro E' Team Fortress ragazzi Guardate Se voi giocate a Team Fortress è come giocare a Overwatch Non cambia niente E' come giocare a Overwatch gratis ecco E dopo una trisera selvatica ci becchiamo un maschione davanti Perci qualcosa di sicuramente Oh mi tocchi il tralala Partita rapida Vediamo Posso cominciare io? No Perché fai schifo Non è vero Ok acquisto Overwatch Guarda R1 R1 per acquistare l'ostacolo pulsante Per evitare Per evitare Traser metti Traser Mi sta da più simbare che tutte Chissà perchè Chissà perchè Chissà perchè Questo qui è il più bilanciato di tutti Eh vedi Traser che voglio provare lei Tutti i matti hanno detto Traser è il più bilanciato Perchè Perchè Esatto Non si può Già Hanno capito perchè Dai Ok Come cazzo si gioca? Non mi ricordo più Non vedo un po' che lo uso Lo so Parla lui Prima avevamo Ma quanto è tappo? Prima avevamo la sensibilità a centro ragazzi No Che prende la pistola Che metti in testa L'avversario No la mira assistita a centro Si Cosa avevo detto io? Tu hai detto l'assessibilità Eh scusami Cos'è fai così fai così ti gira il mondo? Devo difendere l'obiettivo Difendi l'obiettivo Difendi l'obiettivo Difendi l'obiettivo Non dobbiamo far cadere il chiave Io stavo pensando In questo caso Di fare tipo una specie di Fotomontaggio Di Non so giocare Eh E come si spara Si Ah ok Chi stai sparando? Ah 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 Ma sei a cortoraggio E l'ha ucciso Uggio è difficile uccidere qua sto scherzando La prima volta ho fatto tipo Tocchi di zero morte Mi faccio tornare indietro a vita speciale E' carica almeno Come facevo usare la vita speciale? Come facevo usare la vita speciale Puoi che mi ti trasporta indietro Così ho questo Eh l'ha avvenuto Per mi testa a caso E risolverei i problemi del mondo Mi sa che è morto Te l'hanno ucciso Nooo Spire 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 Un ingegnere qua Oddio l'ingegnere Chi sa poi che c'è la guine fortress? All'arca troia mi sono suicidato Oh Succhiatemelo Nooo Tocca a me La parodia di Hitler avevo messo 60 C'è Hitler che facevo direi Anch'io pensavo fosse 60 Mi costerà 60 30 personaggi che mi costeranno 60 marchi Dove 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 Quello lì Si mira da schifo C'è bisogno della sensibilità assistita qua Lo so Eh per questo io ho diminuito la sensibilità ecco No Ma il mio personaggio che il tracer fa schifo Ah posso anche curarmi da solo Eh si è vero Guardalo guardalo Eh volevi No non ha funzionato Ah 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 All'unica Scusa energetica Fa culo io gli sparo lo stesso E' a rambe Bravo L'ho ucciso a rambe Quello lì è stato fermo a far succidere Quello lì è giocatore di me di hour watch Eh prima mi laggava ero uguale Ok Colpo 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 Nooo Dal tracer Da quella che ha meno vita di tutti Mi tocco No 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 aspetta vediamo quanto cosa che hai fatto Eh da vicino fa Eh mi ha sparato la granata ecco perché Fa scorri Val Draca lo scatomi consuma la roba varia No Puoi andare avanti all'infinito non hai una stamina Non esiste stammina Fontana voglio la mira assistita anch'io Voglio la mira assistita anch'io Cavolo qua Ora vedi che chi non la mette perde Ok ehi No non l'hai ucciso Merda ci assediano Ma se c'hai se sei gorilla Gorilla di merda Hai ucciso la rambe di nuovo Devo usare Come si fa ad usare abilità speciale che mi fa curare da Qui troppo chi Mica tanto No io ho visto migliori kill che fanno così camperando Si vabbè camperando ma fai Allora l'orgoglio L'orgoglio va sotto le scarpe Però fa il kill Quindi preferisco tenermi l'orgoglio Oh zio quanto campero qui sopra Oh zio Che exel Non è vero L'ho fatto a posta L'ho fatto a posta Vai sparagli Quanti danni fa Guarda 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 Giocatore medio Bene ok Eh se ho le spalle non posso girarmi di 180 gradi Si che vuoi Come? Devi trovare un modo Ma dove? Ma dove? Sta troia Dai mettiamo Eh quella difficile Quella difficile Eh vabbè questa qua È quella con Il tiro spugni troia Un pugno di un robot che grande sei volte te Troia Dove sei nascosto? Sotto Là Si no mettiammi una mira cestita ti prego Non è fatto per noi Ok ok Stai senza mira cestita Metti dal censo Ok mira handicappati mettiamo Io la chiamo mira handicappati Perchè Ormai l'orgoglio non serve più un cazzo Hai il mirino sopra il nemico anche se non lo vuoi Stanno tirandogli Capra qua che vuole entra Capra qua metti la torretta giù ti Vai 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 Eh mi rendicappati No Funziona Sta arrivando è morto Arambe Peccato Eh si mi spara le Ah un robot Spari le stelline dorate Là che cazzo sono Spari i fan di stelle E non muore Sto camperando che è una meraviglia Eh magari si camperasse così bene Eh già Ah beh vecchi tempi Oh Uno l'hai fatto fuori Vabbè Avevo il gomito esposto morto Eh si Muori E' la sua spalla No Mi ha disabilità No Sto qualche zottissimo Eh si Non lo uso perchè non so come si usa Poi quando è che ci giochi Per giocareci hai spagare 70 70 euro ma sti gazzi Oh dai putt Non credo di aver capito come son morto Prendiamo un personaggio ragazzi Ci prendiamo un po Hanzo Sendo di dire che Hanzo è superfluo No prendi manzo Ah le fai giaccominchio Come già Ma Pfff Ma cosa vuoi fare il legolas di sta minchia E' vero Emulitore ragazzi Cosa fa questa Cerchiamo di trovare l'alligorie per Vabbè hai pensato al tuo scuola Cosa fa questa E' una trappola assunta Cosa fa Abbiamo perso una grande Eh si vabbè Non capivo come funzionava Confitta Tornamente il rosso scintellante Proprio per scuola Ah sto qua Ah ok chi su sti qua Vabbè fai ragazzi Eh Ecco l'azione migliore Guarda 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 Scappa No Devi usa ribalzi dei muri Rimbalzi dei muri Mi è arrivato Mi è arrivato in faccia Altro che Ok rimbalzi dei muri Eh rimbalzi dei muri Se non spara abbastanza lottanti Sinistra guarda Lo vedi lo vedi Vai Sparagli Suua madre C'è qualcuno Eh pfff Ti stava a punta No c'è la Weibo La Weibo La Weibo Aspettate da che campero qui ragazzi Uccidi la Weibo Non deve portare Giappone in casa nostra È impossibile mirare bene in questo ciocco Già La voce non è azzeccata per una tega Perché Ah Perché no è un robot che voce ha Non è un robot Un tipo sotto una corazza Eh vabbè ma non si abbina proprio bene È un vecchio sotto la corazza E allora che ne so io Come fai a sapertutto Io conosco una storia Io no Se si fosse Pensavo di fare qualche subita su opera Se ci fosse una modalità storica Eh vai bravo bravo continua Ti stai rompendo Lo so Se ci fosse una modalità storica almeno 70 euro forse divarrebbe Ma invece neanche quella non metto No ma sì sì Forse sì Occhio Eh Ne fa di danni Dove cazzo hai? Si è girata attorno È morto i tuoi le altri hanno fatto Nooo Eh sì hai dovuto farlo Dovevo andargli addosso per schiacciarlo Ti stessi sempre Ti dico bravo no Devi fare la buia Sai che c'hai un po' Ma come Ma lo schianto a che serve Eh Vieni qui bimbetta Porca troia che mi si bagga lo scatto Dai ma se... Pedofilia Ok cosa che ti fa No 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 se stai esplodendo Stai esplodendo Come fai a sapere così bene se non hai mai avuto un gioco Uccidi da Weibo Bene bene Pedofilia al cubo ragazzi Al cubo Al cubo No mi stai sparando Ma dai che stavo scappando Un po' Ottimo lavoro Avete non è che ha fatto meglio Uccidi la tuttana vai Stinche robot Spacco robot fobia Spacco botte Spacco botte Si va abbiamo quanta vita a sto tank Confitta Ed è la seconda di fila Dobbiamo festeggiare Si guarda quanti robottoni che ci hanno in loro Vabbè dai Vabbè dai Vabbè dai Nanote Guardate qualcosa Fatti bene i personaggi e così glielo concedo Dai vediamo cosa ha fatto dai Camperone di merda Si vabbè camperi così Poi avete capito come si vince la Overwatch No no Guarda che è stato bravo qua Perché vedi che non si è ucciso Ho ucciso due persone È stato bravo perché non si è fatto Noi quanti li abbiamo uccise Due poi si è morti Adesso vediamo E due poi si è morti Questo qua ne uccise due Dopo non si sa se è morto Cosa fa il camperone Guarda il camperone 3 2 Oh 1 0 No 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 Perché poi loro Aspetta Ah è un peccato Cioè è strano che non è bene quello ucciso Si Che eri da davanti Camperare qua ragazzi Guardate che li vedo attraverso Vedi qui mi signorina puttana Eeeh Non so se era una pessima idea o meno Ma forse Scompari? Sì vai così Complimenti per l'abilità di quello la che è ben ucciso Curatemi Com'è che mi sto curando da solo? Eh perché quando muoiono dopo ricogli una roba Una roba rossa che ti cuore C'è un crato mazzonna mia Complimenti per il salto ho fatto la cazza Camero ma dai dove sei morto No Non hai chiamato Ci provo Allacobolf Pfff Pare che scarsa Si TC Eh come la morte non so se hai fatto bene o hai fatto male la probabilmente hai fatto bene signorina puttana muori non crepa ai che ho portato mio ritirata ritirata curami brava 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 la medica la medica la guariglietta hai eliminato un altro sparando al cafforso 4 di fila vai e basta sono finiti si sono roti... ah ecco li va orca troia stanno tornando faccio quello che le schi diverso mi dispiace e più forse stanno tornando i cazzosi qui eh muori qua vero che dubbio e quello foto posto per trollare il robot no come sono morto che ah se avevi mento si vai così ragazzi abbiamo vittoria che palle vai così dammi il brof ah non è carico uno di quattro minuti vediamo poi vediamo la chieda che il migliore dai 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 no siamo ah c'è un salato ardo muori ismione giun crat assi aveva il fuoco allora ha sparato... no non ho sparato a caso no qua ha sparato quasi bene quasi questo qua si è ciabato perchè se... la meritavo io hai eliminato... ah è nemico questo qua bastardo non gli lasciare il like perchè... aspetta a chi... a chi lascerò il like a uno dei nostri ok bravo si vai favoritismo cosa ci ottieni se ti fai il like? noi quanti like abbiamo preso? un cazzo di niente... bastordi livello 7 dai il medaglia d'oro ci sta a livello 6 ho sbagliato 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 bene spacchettamento che mette i... i retrorette mi sono... non ci si 2 probabile... forse 3 ma sul telefono due... cosa si rifare troia? ma cos'hai che spara sto qua? un raggio laser? no no sono la moglie di Rashidi Simakul sento puzza le spie che sei arrivato da dirlo ok non ci sono le spie forse... è troppo si mette un forte sta digerando è troppo mettono... occhio occhio al ciccione a peso cazzo se fosse forte scatame qua perchè ha recuperato la vita? viene curata... viene curata... scappa... c'è il fin ponto è andato... via 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 ok vedi che ha due vite che sta qua c'è il tank e poi c'è la bui bo qua dai devo recuperare e devi fare l'ultimo per recuperare il... come si chiama? adesso cambio... come si chiama? no aspetta come trollare la cosa? cambia poi lo ricambi per farti il tank oooh adesso cosa fai blizzard? vado a prendere con le bra... con le gioschere trocalate vai scappa 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 che esplode ora che te esplode muore quel tipo di è morto non credo sia morto forse è morto da dietro confrimento sei durato sei durato ma non ha ucciso nessuno fa schifo il cecchire in questo gioco lo sapevano tutti non si mira in lenta a girarsi ma come prenderò le spalle? tipo alla battle perché devi calcolare anche il proiettile come si gira il vento oh bene è un'andata ok una è un'andata eeeh e basta dai che non c'è nessuno che... dai che sono il cecchino non devo farle io ste robe e vabbè guarda che questo qua che hai anche un mitra penso non so non sono esperto no la torre della torretta pochi giorni sono in mezzo al pano non può colpire l'hai fatto fuori però cavolo via via mi è arrivata una bomba in faccia vedo orca troia cosa sa che mi sparava è una torna di come si nascondeva e si non è un gioco fatto per durare usiamo gandhi si è vero che gandhi robo ma cosa che fa? robo gandhi questo qua cura eeeh ma che cazzo hai vulnerabile lo tipo di anni queste palle qua sono teleguidate cosa ho fatto? sono teleguidate queste palle aaaah io sparo un tipo cosa stavo sparo oaaaah porca però aspetta ora cari colonna energetica kamehame ah l'ho preso sparo fermo sparare la cazzo ma come cazzo io uso la forza dello ying e dello yang allora lo stai parlando da turco lo sai stai facendo contraddizioni per sempre ah ma io posso sparare anche gli alleati per non uccidermi ti prego per curarvi vai avanti a usare attacco normale per far vedere un po' come funziona aaaah e abbiamo per... no eh sparava le palle ma va bene non so come si usa questo qua mi sarebbe da prendere in mano la situazione che è un belico enorme guardate che c'hai fatto il tatuaggio sulla pancia di un aial ooooh dammi qua dammi qua il brofist guarda che fiero che fiero guardate 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 l'onore l'abbiamo registrato olore guardate mi sento figo ammirate ragazzi ammirate e lì non ci si due è un ammirate ti ho detto che ne avevi ci si due ciao a tutti ragazzi ecce è è è è è Grazie.